Nel corso delle indagini che hanno portato all'arresto di 37 persone da parte dei militari del gruppo di Monreale che hanno smantellato il nuovo supermandamento di Camporeale, è emerso anche un caso di Lupara Bianca. Nel periodo febbraio-marzo 2012, a conclusione della fase di riorganizzazione e stabilizzazione dei nuovi assetti di Cosa Nostra, le intercettazioni avrebbero rilevato come tale repentine ed autorevole riorganizzazione del territorio, sostengono gli investigatori, non sarebbe passata indenne ed avrebbe generato l'insorgere di tensioni proprio nei territori di Altofonte e Monreale. In questo contesto sarebbe maturata la decisione di eliminare un soggetto che probabilmente voleva opporsi alla riorganizzazione territoriale maturata da Antonino Sciortino, con specifico riferimento alla famiglia mafiosa di Monreale, in contrasto con la decisione di riconoscere in Vincenzo Madonia un ruolo di vertice. Vittima designata e inghiottita dalla Lupara Bianca Giuseppe Billitteri, un venditore ambulante incensurato, legato da vincolo di parentela Sergio Damiani, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Monreale, la cui candidatura al ruolo di vertice sarebbe emersa proprio nel corso delle indagini. L'attività investigativa avrebbe permesso di ricostruire la pianificazione dell'omicidio, avvenuta con il metodo della Lupara Bianca il 22 marzo 2012 sotto la regia, secondo quanto accertato dagli investigatori, di Giuseppe Libranti Lucido, ed eseguito ad Altofonte presso l'abitazione di Giuseppe Antonino Vassallo, vice di Giuseppe Marfia. L'uomo sarebbe stato strangolato ed il cadavere trasportato è poi nascosto in un terreno a Camporeale. Inoltre i carabinieri hanno individuato anche i presunti complici dell'omicidio e di loro relativi ruoli, Giuseppe Antonino Vassallo, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Micalizzi e Francesco Locascio.